Siamo riusciti fortunatamente con gli sponsor privati, infatti indico la galleria EMI come prima che mi ha sostenuto in questa grande mostra. A volte ci si incontra con persone straordinarie, Eugenio Zanetti è uno di questi, quindi drammaturgo, letterato, pittore, scenografo e premio Oscar, quindi meglio di così Messina non poteva avere oggi. Di cosa parla questa mostra? Ma parla del suo percorso, Pellegrinosse nel tempo, è tutto quello che lui ha vissuto fino ad oggi, ha 76 anni, quindi un'esperienza, un saggio di tutto, quindi tutto quello che ha fatto era chiuso in quelle 11 tele che vedrete al Palacultura. La mostra quando è visitabile? Allora, sono orari di ufficio, quindi la mattina tutti i giorni e martedì e giovedì ci rientro fino alle 5, il sabato e la domenica solo la sera, dopo le 4, fino alle 8.